Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come Cesare Casadei sta per trasferirsi in Premier League, al Chelsea. L'affare coi londinese è vicinissimo al traguardo.Trattativa conclusa. Secondo il Corriere dello Sport è fatta per la cessione di Cesare Casadei. Il talento della primavera dell'Inter si trasferirà a Londra, spunda Chelsea. Come riporta il sito del Quotidiano Romano, il 19enne Ravennate è stato venduto ai Blues per 15 milioni di euro più bonus che possono fargli evitare l'affare a un massimo di 20 milioni. In sostanza i rondinesi soddisfano le richieste avanzate fin dall'inizio dal club di Viale della Liberazione, che con le partenze di Pinamonti, alza suolo per 20 milioni, ed è lo stesso classe 2003 prova a scongiurare la cessione di uno dei B. Secondo quanto raccolto da Interlive.it, invece, l'accordo tra Inter e Chelsea ancora non c'è. Le part, tuttavia, sono al lavoro e molto vicine a un'intesa definitiva. Insomma, a meno di sorprese Casadei sarà presto un giocatore dei Blues. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.